Ciao! Ciao! Ci siamo, ci siamo ragazzi! Siamo pronti? Movinetto sulle mani al cielo ragazzi, ci siamo, diamo inizio! Sulle mani, sulle mani ragazze, brimino brimino! Ci siamo! Un attimino solo ragazze, si riparte adesso, si riparte subito! Vi lancieremo gli 80 all'ora, è velocissimo, è fantastico! Un attimo! 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 Sì, ragazzi, mettiamo! Si vedete il cuota, aspetti! Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua! E' un'altra azione, ragazzi, mettiamo! E si vedete, si vedete, ragazzi, brivido, brivido, brivido! E' bellissimo, ragazze! Brivido! Ludo, ludo! Brivido, 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 ragazzi, possiamo sentire la voce, l'urro, l'urro! Da questa parte, premanare le corse, ragazze! Mi aspetto! Giù le mani, insieme le mani al cielo, ragazze! Brivido, brivido! Ci siamo, ci siamo, ragazzi, facciamoci sentire la voce, l'urro, l'urro! Ciao! Ciao! Vi facerò un nuovo forse, indietro i bambini, della pedona rialzata. Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.